L'eccellenza enogastronomica del nord Sardegna, presto sui mercati europei di Germania, Danimarca e Svizzera, è il progetto ideato da Promocamera, ente camerale della Camera di Commercio del nord Sardegna, per promuovere e commercializzare i prodotti locali all'estero, con l'obiettivo di sviluppare ulteriori opportunità di export. In vista della preparazione tecnica per i nuovi mercati, Promocamera ha fissato per martedì prossimo alle 14.30 un webinar gratuito di approfondimento. Interverranno accreditati esperti, importatori e rappresentanti delle Camere di Commercio italiane all'estero e verranno suggeriti consigli pratici per una maggior penetrazione dei prodotti agroalimentari locali sui mercati di Danimarca e Germania. Per aderire all'appuntamento online è necessario compilare il modulo di adesione entro oggi tramite il sito dell'ente all'indirizzo www.promocamera.it dove sarà possibile reperire ulteriori informazioni. Floregarden. Con noi la differenza si coglie.